Nonostante l'emergenza sanitaria, il comune di Pescara è già al lavoro per il piano freddo, per dare ospitalità ai tanti senza tetto della nostra città. Assessore Dinizio, vogliamo spiegare quello che accadrà da qui a qualche settimana. Avete già individuato la struttura dove ospitare questi senza tetto? Sì, insieme al sindaco e all'assessore Sulpizio abbiamo individuato l'Amichetti. L'Amichetti come scuola perché? Perché, come possiamo vedere tutti, l'Amichetti è situata vicino alla sede dei vigili urbani. Quindi diciamo anche per una miglior sicurezza anche di tutti i cittadini che vivono lì. Inoltre ci siamo collegati con l'ASL dove è venuto a fare il sovralluogo a scuola. Ci hanno dato il via, faremo dei lavori, metteremo anche delle docce per la pulizia della propria persona e questa avrà una durata fino alla metà di febbraio all'incirca. Certo, diciamo, non tutti hanno amato questa collocazione come scuola. Infatti qualcuno ci ha tenuto a precisare che la scuola non andava bene. Io ci tengo a dire che noi, soprattutto in questo periodo di emergenza, abbiamo fatto il possibile e abbiamo dato giustamente una giusta casa e una giusta dignità anche a loro. Quindi ci dobbiamo venire tutti incontro su questa emergenza e sicuramente i lavori per la scuola inizieranno, come è stato detto già e anticipato dal sindaco perché già ci siamo, già abbiamo organizzato tutto. Ci sarà un'associazione che collaborerà con l'amministrazione comunale? Sì, ci sarà l'onderod che oltre a preoccuparsi di andare a scuola con questi 30 a fissa dimora perché quest'anno ne saranno un po' di meno proprio per l'emergenza Covid faranno anche le attività di strada per tutte quelle persone che non hanno preferito e non preferiscono entrare nella scuola. Per quelle persone che non hanno un alloggio, uno stabile dove ripararsi, state pensando? Per tutte le persone che restano fuori ci sarà anche la Caritas che ha altri 20 posti letto e comunque noi assicuriamo sempre l'attività di strada che fanno anche oggi l'onderod Caritas e quindi non resteranno soli e comunque laddove è possibile, ripeto, c'è la Caritas con altri 20 posti letto.